L'informazione di valore sul canale 18. Questa è Esperia TV. Da lunedì si torna al giallo con maggiore tortura per bar e ristoranti che potranno restare aperti fino alle ore 18. Si è divesto il deputato del Movimento 5 Stelle Riccardo Tucci finito nell'inchiesta della procura di Vibbo Valencia per una presunta frode fiscale. Il sindaco di Mormanno, diversamente da quando accadrà lunedì prossimo, allunga fino al 5 febbraio la didattica a distanza per la resistenza alla pandemia. Un numero di WhatsApp per offrire e ricevere contributi e idee da parte delle giovani generazioni da qualche giorno è operativo anche nella città di Crotone. Benvenuti alla prima edizione per quanto riguarda il nostro TG. Sì, allora, l'avete sentito dai titoli. Si è tenuto questa mattina nell'aula bunker di Lamezia Terme la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario nel distretto della Corte d'Appello di Catanzaro. La relazione è stata letta dal Presidente Domenico Introcaso. Ha partecipato anche il Ministro di Grazie e Giustizia, Alfonso Bonafede. Vediamo. La criminalità che si sostituisce allo Stato ai tempi di pandemia. È stato questo uno dei passaggi più importanti della relazione del Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro, Domenico Introcaso, in occasione dell'anno giudiziario di Catanzaro, tenutosi nella aula bunker di Lamezia Terme, dove si sta svolgendo il maxiprocesso rinascita Scott. All'inaugurazione era presente anche il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. Ecco un breve strato della relazione del Presidente della Corte d'Appello di Catanzaro. Il quadro di riferimento trova drammatico completamento nella crisi da pandemia, che per un verso paralizza in ragione del lockdown e della mancanza di domanda all'economia, e per altro verso libere e enormi risorse economiche e finanziarie nel mondo produttivo come misure di sostegno alle imprese gravamente in crisi. L'effetto perverso è tragicamente duplice. Uno è la surroga nell'impresa dei titolari sani con imprenditori criminali, che in tal modo giustificano il proprio operare illecito e danno impronta di legittimità formale al denaro proveniente da delitto. L'altro, maggiormente paradossale, è la possibilità di acquisire da parte delle imprese in mano alla criminalità risorse pubbliche, da ristoro economico, formalmente destinata ad imprese bloccate dal lockdown, ma sostanzialmente appresi in un circuito illecito da soggetti criminali. Ha preso poi la parola il Ministro Bonafede, che ha illustrato come nel suo impianto nel settore giustizia bisogna ricoprire anche il plan per potenziare il finanziamento dell'intero apparato attraverso politiche di digitalizzazione, ma anche assunzioni finalizzate alla riduzione dell'arretrato, fino agli investimenti per l'edilizia. Il piano di interventi è stato appunto illustrato, come dicevamo, dal Ministro Bonafede, che ha detto che per questo progetto è previsto uno stanziamento di 2 miliardi e 300 mila euro per assunzioni finalizzate alla riduzione dell'arretrato dell'orizzonte del piano fino al 2006. In particolare si tratta di circa 16 mila addetti all'ufficio per il processo con contratto a tempo pieno e sino a 2 mila magistrati. Cambiamo argomento, occupiamoci della pandemia, della notizia che ormai chiaramente di dominio pubblico, la Calabria torna zona gialla a partire dal lunedì, quindi nuovi orari e un po' di allentamento per quanto riguarda la restrittezza. Vediamo il servizio. Da lunedì cambia il colore pandemico della Calabria, da arancione si passa al giallo, con un grosso respiro di sollievo per tutti, a cominciare dai ristoratori che vedono le loro attività ritornare a una sorta di routine giornaliera, ma fino alle ore 18, quando bisognerà chiudere i battenti, così come imposto dai DPCM. Dunque si potrà tornare nei ristoranti, nei pub, nelle pizzerie, purché si osservino le distanze di sicurezza imposte dai gestori come per legge. Si potrà tornare a prendere il caffè nei bar, una alla volta però, senza essere costretti all'asporto, come sta succedendo ancora adesso. Il miglioramento della situazione pandemica in Calabria arriva dal dato RT nazionale, che ha visto il coefficiente abbassarsi grazie alla stretta osservata nelle scorse settimane. Sono diminuiti i contagi, le terapie intensive non sono più al collasso come nella prima e seconda ondata, le guarigioni sono in netto aumento, il numero dei tamponi è aumentato in maniera esponenziale rispetto a prima, tanto da consentire di lavorare su un dato più preciso e soprattutto l'avvio della campagna di vaccinazione, ha dato un'accelerata non indifferente in materia di fiducia nella popolazione. Ora la raccomandazione che giunge, in modo particolare dall'Istituto Superiore di Sanità, è quella di evitare quello che è successo prima dell'inizio dell'estate scorsa, quando ad un certo punto sono saltati alcuni comportamenti, con la conseguenza seconda ondata che ha fatto registrare ancora tanti morti. O come nei giorni delle festività natalizie dove, anche in quell'occasione, in tanti non hanno osservato le disposizioni organizzando cenoni e assembramenti nelle proprie abitazioni, costringendo il governo ad allungare le ristrettezze. Dunque si torna in zona gialla e dal lunedì prossimo, primo febbraio, torna la scuola in presenza al 50%, anche 1.200.000 studenti delle scuole secondarie di secondo grado nelle otto regioni che ancora mancavano all'appello. Fra queste c'è anche la Calabria, rientreranno a scuola anche i ragazzi delle classi seconda e terza media della Sicilia. Attenzione però perché non sarà così in tutta la Calabria, perché a causa della risalita dei contagi il sindaco di Mormanno, Giuseppe Regina, ha emesso un'ordinanza con la quale stabilisce che la didattica a distanza dovrà proseguire fino al 5 febbraio. Vediamo. A Mormanno è stata prorogata sino al 5 febbraio prossimo la didattica a distanza, nelle scuole di ogni ordine e grado, a eccezione delle scuole dell'infanzia e degli alunni con disabilità. Lo ha disposto il sindaco, Giuseppe Regina, emettendo un'ordinanza sulla scorta del fatto che la curva dei contagi è tornata a risalire. Attualmente ci sono sette persone contagiate, di cui quattro alunni e 40 persone in quarantena domiciliare. Con l'ordinanza il sindaco Regina ha inoltre disposto alcune limitazioni per le celebrazioni funebri che dovranno svolgersi con la presenza dei familiari più stretti, fino a un massimo di 20 persone e nel rispetto dei protocolli anticontagio. In aggiunta, le persone che avranno intenzione di recarsi a Mormanno per un lasso di tempo superiore alle 24 ore hanno l'obbligo di comunicarlo almeno 48 ore prima, inviando comunicazione al Comune o attraverso l'app Mormanno nella sezione segnalazioni e trasmettere, entro il giorno di arrivo, copia di un referto di negatività Covid in data non antecedente alle 72 ore precedenti d'arrivo. La pagina della politica, non scioglie la riserva Carlo Tanzi sulle prospettive di unione con Luigi De Magistris in visita all'ospedale di Castrovillari, il leader di Tesoro Calabria resta in campo almeno per il momento. Vediamo cosa ci dice questo servizio curato dal direttore Salvatore Aurea. In Calabria hanno chiuso 18 ospedali strategici con una logica che è la logica della pianura padana dove tra un ospedale e l'altro c'erano delle distanze in pianura standard. In Calabria invece se misuriamo la distanza in linea d'aria tra Castrovillari e Praia Mare in linea d'aria sono poche decine di chilometri però c'è una catena di mezzo. La Calabria orograficamente non è la pianura padana come vogliono farci credere quelli che hanno chiuso gli ospedali. Carlo Tanzi accompagnato da Peppino Pignataro, uomo di fiducia alle passate elezioni regionali commenta positivamente l'incontro avvenuto a Cosenza con Luigi De Magistris parlando a chiare letteri di possibile rivoluzione arancione per cambiare la Calabria. Noi stiamo viaggiando su due binari paralleli, siamo entrambi candidati a presidenti quindi presidente andiamo nella stessa direzione seppur su due binari paralleli per il momento. È chiaro che abbiamo lo stesso colore che ci accomuna che l'arancione, abbiamo le stesse idee, vogliamo entrambi sovvertire questo quadro squallido che ci ha portato, cari calabresi, siamo l'ultima regione d'Europa, se voi continuate a votare gli stessi soggetti di destra e di sinistra diventeremo peggio dell'Africa. Noi invece qui proponiamo persone come Peppino Pignataro, lo conoscono tutti a Castrovillare e non solo a Castrovillare, persone chiare, trasparenti e per bene che sono per la libertà dei calabresi e per la correttezza. Le vecchie linee taurenzi tra Gioia Tauro e Palmi saranno oggetto di ammodernamento. La Regione Calabria fa sapere tramite l'assessore ai trasporti Catalfamo elaborato una scheda progettuale da finanziare attraverso il recovery fund trasmessa dalla cabina di regia istituita dal Governo centrale per l'esame delle proposte. L'investimento spiegano i dipartimenti interessati, interessa l'area di Gioia Tauro, in particolare l'area del parco archeologico dei Tauriani che comprende anche Gioia e Palmi, ambito territoriale in cui la valenza trasportistica dell'opera viene amplificata da quella turistico-culturale. Il progetto si propone di valorizzare quest'area ricca di zone naturalistiche che attraverso una maggiore fruizione di servizi al viaggiatore. Una nota di cronaca è in corso un'attività di interforse di carabinieri e polizia nella zona compresa tra il villaggio Rom del quartiere San Vito Alto di Cosenza e le campagne limitrofe a seguito del furto consumato nella notte in un'armeria del centro della città. Gli agenti militari, col supporto anche dei vigili del fuoco, stanno perlustrando l'area tra le serpaglie e perquisizioni. Sono anche in atto nelle abitazioni in alcune delle quali sono state ritrovate delle armi che però non farebbero parte del bottino del raid compiuto nella notte scorsa. Gli investigatori si stanno inoltre concentrando sulla quantificazione delle armi trafugate dal negozio di Cosenza. Il deputato Riccardo Tucci, indagato in un'inchiesta della procura di Vibo Valencia su una presunta frode fiscale, si è autosospeso dal Movimento 5 Stelle. Ho deciso in piena autonomia di sospendermi dal Movimento 5 Stelle e rassegnare le dimissioni dai ruoli di facilitatore di interni e coordinatore regionale della Calabria. La vicenda che mi vede coinvolto non ha nulla a che vedere con la politica né col Movimento 5 Stelle che intendo tutelare con questa autosospensione. Parla così il deputato Riccardo Tucci, indagato con altre persone in una inchiesta per una presunta frode fiscale condotta dalla Procura e dalla Guardia di Finanza di Vibo Valencia. Il mio impegno a favore del Movimento 5 Stelle, dice Tucci, non finisce con questo episodio. Ho avvertito molto sostegno e solidarietà in questo momento. Questo mi farà ritrovare la forza che non ho in questo momento per rialzarmi. In altre sedi tutelerò la mia onorabilità e dignità, non temendo nulla, perché ho piena fiducia nella magistratura e soprattutto la coscienza pulita. Ringrazio i colleghi di tutta Italia e di tutte le forze politiche che mi hanno espresso la loro solidarietà e dimostrato la loro amicizia, nonché gli attivisti del Movimento 5 Stelle che, con centinaia di messaggi, mi hanno sommerso d'affetto. A breve, conclude il deputato Grilino, comunicherò ufficialmente al capogruppo della Camera, al capo politico e al collegio dei propri diri, la mia decisione in modo ufficiale. Grazie a tutti. E forza, Movimento 5 Stelle. Ancora cronaca al sindaco di Polistena, Marco Policaro, ha annunciato le sue dimissioni. Policaro, pur non essendo indagato, è citato negli atti dell'operazione Faust, condotta nei giorni scorsi dai carabinieri contro la cosca Pisano di Rosarno. Il suo nome, infatti, è citato in una intercettazione ambientale dal sociolo che è stato posto agli arresti domiciliari per associazione mafiosa. Policaro ha annunciato il passo indietro in una riunione del Consiglio Comunale. Decisione presa, ha detto il sindaco, a tutela della onorabilità della città. Non sono mai stato un mafioso, l'ho sempre combattuta apertamente. Solidarietà è stata espressa dal Consiglio Comunale e dalle associazioni cittadine. Un uomo è stato fermato nel corso di un controllo da parte dei carabinieri di Ciro Marina a bordo della sua auto aveva quasi 500 kg di prodotti ittici alimentari, nello specifico novellame di Sarda. Immediatamente accompagnato presso gli uffici della Capitaneria di Porto, l'uomo è stato sanzionato per le violazioni amministrative relative alla commercializzazione di prodotto ittico sottodimensionato, nonché privo della relativa etichettatura, per un ammontare complessivo di 75 mila euro. L'intero prodotto è stato sequestrato e devoluto in beneficenza. Cambiamo argomento. Il Presidente della Regione Calabria facendo funzioni Nino Spirli ha nominato l'Avvocato Alessandro Zanfino, Presidente del Consiglio di Amministrazione della società in Ausfin Calabra. Nel decreto si prende atto della collocazione in quescenza del Presidente uscente Carmelo Salvino e si provvede tempestivamente alla ricostruzione dell'organo amministrativo mediante l'integrazione del componente apicale e legale rappresentante della società al fine di consentirne il regolare funzionamento. Ricevere richieste di sostegno, offrire contributi e idee per questi motivi. Il Comune di Crotone ha attivato da qualche giorno un numero WhatsApp rivolto ai giovani. Di cosa si tratta? Lo vediamo insieme. L'assessorato ai servizi sociali del Comune di Crotone nella sua campagna di ascolto per i giovani ha attivato il servizio Whats Amico. Si tratta di un numero WhatsApp, il 335-822-22-224, attraverso il quale i giovani potranno inviare ai servizi sociali dell'ente eventuali richieste di sostegno, ma anche offrire contributi, idee, sollecitazioni legate all'universo giovanile. Whats Amico è la prima delle iniziative che si intendono realizzare anche in tema di un corretto e consapevole utilizzo degli strumenti social e nasce dalla volontà di fronteggiare le derive violente nel mondo giovanile. Un semplicissimo numero WhatsApp che funzionerà però soltanto sulla messaggistica in capo ai servizi sociali che si occuperanno ovviamente di valutare quelle che saranno le segnalazioni piuttosto che i contributi che arriveranno dai ragazzi e della ragazza della nostra città. I loro messaggi saranno ricevuti dalle assistenti sociali del Comune che avranno in questo modo un contatto diretto e potranno determinarsi sugli eventuali interventi o azioni da intraprendere. Allo stesso modo rappresenta uno strumento vicino ai giovani con il quale stabilire un contatto diretto. Io penso che ci saranno tante risposte. C'è molta vitalità in questa città anche se non sembra perché purtroppo gli spazi che sono ormai rimasti a beneficio dei ragazzi e delle ragazze sono limitati a causa del periodo particolare che stiamo vivendo da un anno a questa parte. Non dimentichiamo che gli spazi dei giovani sono i primi spazi che sono stati chiusi e saranno anche gli ultimi a riaprire probabilmente anche se ci auguriamo di uscire prima possibile da questa condizione. E poi nasce come servizio dopo un'attenta riflessione sulla necessità di aprire le porte dell'ente e la disponibilità dell'amministrazione verso i giovani della nostra comunità. Il Presidente della Giunta regionale Nino Spirli ha emesso il decreto con cui viene costituita la consulta regionale dei calabresi nel mondo. Sarà lo stesso Presidente della Giunta a presiedere l'organismo composto da rappresentanti proposti dalle associazioni indicati dai cittadini calabresi residenti all'estero. La consulta avrà il compito di collegare le istituzioni regionali con i calabresi nel mondo promuovendo investimenti, collaborazioni, scambi di carattere culturale, turistico e commerciale. La consulta dura in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. E ora vi parliamo di una solidarietà, una solidarietà particolare quella che ha voluto fare un pizzaiolo di Crotone. Vediamo. Pizza gratis per i bimbi di famiglie indigenti. È l'iniziativa che Adolfo Covelli, titolare della pizzeria Nuova San Paolo a Crotone da qualche settimana ha intrapreso per venire incontro a quelle famiglie con i figli in serie difficoltà economiche. Un'iniziativa apprezzata dai cittadini e soprattutto dai piccoli in un momento dove la pandemia e la mancanza di liquidità non permette ai loro genitori di poter acquistare la pizza come era prima della pandemia. La pizza è diventata, è nata come l'alimento più nobile ed è diventato oggi un lusso per tante famiglie. I bambini, questa è una cosa che è nata in me con grande spontaneità perché io sono contro la sofferenza dei bambini già in sé e sto male quando vedo un bambino che soffre. Quindi ho deciso per quelle che sono le mie possibilità e per quello che posso fare non aspettare gli altri. Ma la pizzeria Nuova San Paolo non ha pensato solo ai bambini ma anche alle famiglie in gravi difficoltà economiche che si affidano solo agli aiuti di Stato come il reddito di cittadinanza calmerando il prezzo di uno dei prodotti gastronomici più buoni del mondo. Io nel mio piccolo ho deciso di fare io senza aspettare nessuno in base a quelle che sono le mie possibilità nel senso una pizzeria, faccio pizze e per me, tutti i bambini che vivono in questa città che non si possono permettere una pizza la porta alla pizzeria San Paolo è aperta. E ora occupiamoci come sempre di medicina la buona medicina servizio curato da Maria Dora Decaria. La visita reumatologica è un passaggio fondamentale per la prevenzione, la diagnosi e la cura delle malattie reumatiche. La varietà di queste malattie e dei sintomi collegati all'origine reumatica rendono necessari controlli medici e diagnostici approfonditi. Al reumatologo si ricorre su indicazione del medico curante e in presenza di sintomi come dolore alle articolazioni, stanchezza e febbre. Ma ci dice di più il dottore Salvatore D'Agostino reumatologo del Marreli Hospital di Crotone. Quando una persona si deve recare da un reumatologo quali sono i campanelli d'allarme? Il campanello d'allarme principale è il dolore. Le persone che vanno dal reumatologo sono afflitte da dolore. Dolore che può essere monoarticolare, poliarticolare, di origine infiammatoria. Abbiamo diversi tipi di dolore. Più delle volte fanno il giro delle sette chiese, passano da vari specialisti prima di arrivare al reumatologo che poi è quello che deve un po' dirimere il caso cercando di capire per quale motivazione quella determinata persona sta soffrendo. Ci sono delle fasce d'età oppure a tutte le età si può avere dolori? Sì, purtroppo il dolore è qualcosa che colpisce tutte le età. Abbiamo più volte capito che ci sono delle età in cui sono molto più facili avere determinate malattie. Queste sì, ma non esistono età in cui si è immuni dai dolori o dalle malattie reumatiche. Quali sono le patologie che riscontra più frequentemente nei suoi pazienti? Nello specifico parliamo ovviamente del Marrelli ospite. Artrite reumatoide, la prima in assoluto. L'artrite psoriasica, un sacco di persone con la psoriasi prima o poi queste svilupperanno lupus. Devo dire, io lavoro a Monza, ma devo dire che la percentuale di lupus che vedo qua in Calabria è abbastanza elevata. Queste tre credo che già abbraccino un po' il 60% delle patologie. E ora in chiusura come sempre le previsioni del meteo. Un saluto e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento previsionale da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'alta pressione nella giornata di domenica staziona tra l'Atlantico e la penisola iberica. Mentre un'area di bassa pressione, molto vasta, sull'Europa 7 intronale sarà responsabile di un peggioramento anche sull'Italia. Avanzerà infatti una perturbazione al centro-sud e sarà responsabile di una copertura nuvolosa estesa e compatta sulla Sardegna, nella prima parte della giornata anche sulle regioni di nord-est e sull'area tirrenica. Darà luogo a precipitazioni diffuse, a tratti moderate e anche a sfondo temporalesco sul basso versante tirrenico. Osserviamo in definitiva cosa ci attenderà sulla nostra penisola. Un miglioramento graduale al nord, specie al nord-ovest, tornerà a splendere il sole entro fine giornata anche al nord-est, mentre nella prima parte della giornata avremo ancora qualche nota instabile. Tempo perturbato invece al centro-sud e sulle isole maggiori, cieli grigi coperti con precipitazioni sparse, il tutto in un contesto climatico non particolarmente freddo per il periodo. Rinforza la ventilazione, le temperature massime localmente si rialzeranno di qualche grado al nord. Con questo è tutto, ma per saperne di più scaricate e consultate l'app gratuita Trebbi Meteo. Bene, tutto per questa prima edizione, aggiornamenti in quella di questa sera alle 20.30. Restate qui sul 18, continuate a seguirci, noi ci vediamo dopo.